Ciao, creatura. Io sono Eka Desplendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai e S.M.R. In compagnia di Sam che farà del rumore molesto e verrà buttata fuori dalla camera, vero Sam? Mi sta guardando così. Tipo, no, non mi buttare fuori, non mi buttare fuori, non mi buttare fuori. Ok, questa sera video reaction. Andiamo a vedere dei video tutorial, suggerimenti che su TikTok hanno fatto un tema a San Valentino. Regali di San Valentino, sorprese e idee. Un po' un misto. Vediamo insieme se sono approvate, cioè se possiamo prendere spunto da queste idee e farle anche noi a nostra volta. Però ovviamente mettendoci del nostro non copiandole. Anche perché la maggior parte sono video non italiani e quindi tante di quelle cose non le troviamo. Noi non abbiamo quei negozi. Oppure se sono totalmente da bocciare e quindi no, non proviamo e ci dissociiamo da questa cosa. Questo rumore è Sam che dentro ha una scatola di cartone e batte la coda, quindi... Non so se la senti, batte la coda. Quando ti batte la coda, lei la batte. Mi sa chi verrà buttata fuori dalla camera. 3, 3, 2, 1... Un giorno ti racconterò le mie avventure con il modo della reaction ASMR. Perché non è il primo video che provo a fare delle reaction. Ce n'è un originale in cui è successo un casino e te lo pubblicherò più avanti. Spero che questo venga pubblicato il 27 gennaio. Se è il 27 gennaio metti like, se no lascia stare. Metti un commento. Un giorno se vuoi ti farò uno story time dove ti racconterò tutto, creatura. Ok, andiamo a vedere il primo video. Mi devo spostare? Come ci sta? Ce lo facciamo stare qua? Non ho voglia di spostarmi, mi piace questa incodrattura centrale per oggi. Ok, io terrò silenzioso. Vediamo. Ok, è tutto molto veloce. Allora prende un vasetto di vetro, una corda, delle lucette a forma di cuore, rosse. Poi le attacca, non si sa come, con il nostro adesivo forse non lo spiega. Le attacca un po' su e giù dentro questo vasetto. Dipince tutto di bianco intorno ai cuoricini. Dipince per fuori. Poi prende quei pezzettini di legno che aveva mostrato all'inizio. La corda, beh, carino. E ho messo anche delle rose all'interno, rose finte. E poi quando si accendono le lucette, carino. E però, cosa mi rappresenta? Un accessorio per la casa? Cosa, cioè, una lampada, non so. Sì, dai, carino, anche se possiamo fare di meglio. È carino. In realtà allora lo si potrebbe fare con tante altre cose. Cioè rubargli l'idea di farlo con altre luci, altri colori. Inserire dentro ciò che vogliamo. Il prossimo video, sempre del, questo negozio che è Dollar Tree. Vediamo. Che noi non abbiamo ovviamente in Italia. Ovviamente. Allora, già promette male questo, non so. Allora ha preso dei fiori finti. Dei cioccolatini, credo siano mini barrette, non lo so. La spugna, quella per i fiori, si immerge nell'acqua, assorbe tutta l'acqua, si piantano i fiori, prendono l'acqua da questa spugna e si mantengono vivi, più o meno. E poi si fa di colla a caldo, vediamo. Ok. Ha preso la colla a caldo, le ha posizionati uno ad uno sopra questa spugna. Non so perché. Vediamo. Non so cosa hai in mente. Allora, sì, ok, piacerebbe riceverlo, sì perché c'è la cioccolata, però è bruttino. Ha ricreato, diciamo, un vaso di fiori finti con delle pareti di cioccolato. Vabbè, abbastanza originale, ha provato, non lo so. Sì, beh, approviamolo solo perché c'è la cioccolata, la cioccolata va sempre bene. Poi non so cosa abbia appiccicato dentro le rose dei cioccolatini, con quei petardi che lanci e esplodono i pop. Vabbè, roba americana sicuramente. Altro video, vediamo, altra idea. Ok. Un cuore di legno con delle foto. Finito? Beh, carino, ma, cioè, non si è, non si è sprecato molto, vabbè. Vabbè, insomma, è stato tutto molto veloce. Sì, chiunque avrebbe potuto pensarci una cosa del genere. Comunque, ha provato anche noi, cioè, banalissimo. Ok, vediamo questo. Can find everything for un dollaro. At the dollar tree, ok? Diciamo che è come tutto un euro. Vediamo. Questo sacchetto con dentro. Ah, bello, tutte cose creative. Ok. Ma questa scatola, cosa c'è scritto nel biglietto? Aspetta. Nobody has your spirit, nobody has your style. Wow. Nessuno ha il tuo spirito, nessuno ha il tuo stile. E credo che faccia una box creativa da regalare, quindi, con tutto necessario per le persone. Questa è una bella idea, non solo per San Valentino, ma potrebbe essere una fantastica idea regalo in generale. Per le persone a cui piace dipingere o dipende. Se una persona piace creare, potrebbe essere un kit anche per fare cose con la resina. Mi viene in mente questo. Per fare chissà cos'altro di creativo. Ma vediamo lei cosa andrà a inserire proprio nel dettaglio. Adesso, sono curiosa. Allora, facciamo pausa. Ho messo un mega, vabbè, quel bigliettone. Poi vedo delle cose con degli unicorni. Non lo so. Dei colori molto belli. Degli acrilici, penso, delle tempere. Dei pennelli. Sì, bello. Mi piace. Ok. Poi, vediamo qua. Oh, questo già da quello che vedo scritto. Movie night gift basket, quindi un cestino per una serata dove si guarda un film. Vediamo. Questo mi piace molto. Perché è un regalo che si può utilizzare insieme. Quindi, regali un'esperienza insieme. Mi piace molto l'idea. Vediamo. Play. Ok. Bello. Allora, un bel cestino. I cioccolatini, due coca-cole, gli orsetti gommosi, i popcorn. C'era un paratonino di vetro. Vediamo che cosa contiene. Ah, credo degli altri cioccolatini. Bella questa idea, molto carina. Si guarda un film insieme, si scranocchia qualcosa. E c'è qualcosa. Magari noi italiani potremmo anche mettere cose meglio. Però, non è male io prendere spunto da questa per creare tipo una situazione romantica insieme. E smanciucchiare qualche snack. Mi piace. Non è originale. Perché mi piace l'idea di condivisere qualcosa insieme come regalo. È molto bello un'esperienza insieme. Mi piace. Mi piace molto. Ok. Andiamo a vedere il prossimo. Già mi preoccupa questo titolo. Do it yourself Valentine's Day Gift Out of Old Vinyl Record. No. Spero che non sia quello che sto percependo. Non andranno a rovinare un vinile musicale, spero. Ok, delle foto. Ok. Fico. No. No, ti prego non farlo. No. No. Allora. Anche se fosse il vinile più brutto del mondo, non lo so. Gigi D'Alessio. Ne dico uno a caso. Ne me ne voglia Gigi D'Alessio. Insomma, per dire, anche se fosse l'album, il vinile più brutto del mondo, è rovinatissimo. Così, c'è, ti prego, non potevi fare una qualsiasi forma con un cartoncino, tipo, deve rovinare un vinile, che sono già bellissimi così, anche se sono i vinili brutti. Ma, porri, non mi piace, non ha però. Dai, ma, che vuoi che senso ha così? Cioè, ditemi che senso ha così? Non ha nessun senso. Cioè, poteva a questo punto, sarebbe stato mille volte meglio, un cartoncino a forma di cuore, e faceva il collage così. Più, piuttosto che andare a rovinare un vinile, io non sono d'accordo. No. Poi, un altro con un dollar tree. Valentine's Day Gift for Hunter, 10 dollari. Andiamo a vedere, 10 dollari, bello che l'hai detto in inglese, è 10 dollari. 10 dollari. Beh, dollar stop. Allora, e qua si va di riempire delle scatole. Ok. Ok. Molto cetonato il cestino con dentro varie sorpresine. Questa cosa mi piace. Insomma, sono molti dolcetti. Da noi non ci sono quelle cose, però. Sì, non ce l'ha neanche fatto vedere. Ci ha fatto vedere solo che cosa ha comprato, ma non ce lo fa vedere composto. Io volevo vedere l'ho composto. Sicuramente avrà scritto. Scrivete nei commenti per una parte 2. Fanno sempre così su TikTok. Odio, odio, odio questa cosa. Fammela vedere subito, perché devo farmi una seconda parte. Capisco che i video su TikTok sono corti, però mi fai venire la curiosità e poi non me lo mostri. Non c'entrilo, perché mi l'hai toccata. Comunque andiamo a vedere questo. Dice, regalo di San Valentino dell'ultimo momento. Che poi, un regalo che puoi realizzare letteralmente in quanti minuti? In 30 minuti? Subito, in 30 minuti. Il tasto play di sopra è proprio la scritta. Vediamo. Ok. Ok. Occorrente. Dei bastoncini, tipo quelli per il gelato. Una... In inglese, una jar. Una bottiglietta di vetro. A forma di cuore. Bisogna trovarla. Cioè, questo lo puoi mettere in 30 minuti. Sì, ma io devo trovare quegli oggetti. Quindi ci metterei in Italia molto più di 30 minuti a cercare quelle cose. Perché non abbiamo quei negozi. Però l'idea è quella. Poi dopo si può fare come si vuole quello che si trova. Un pennarello nero. Credo indelebile. Poi c'è una stringa nera con dei cuori, credo. Degli uccellini giocattoli, non so, ornamentali, non so come si chiamano. Delle bottigliette, mini bottigliette ornamentali, decorative, non so. Poi, della sabbia decorativa. Dei sacchetti... Vedo che ha messo un sacchettino, dei sacchettini rossi di cartoncino. Penso, non so. Andiamo a vedere. Allora, con un cono di carta riempie il barattolino di questa sabbia. Poi, c'è quei bacchetti cinesi, ci infila dentro gli uccellini e le altre decorazioni. Poi, ha preso tutti i bastoncini del gelato, li ha numerati e ha creato delle idee per degli appuntamenti. Per esempio, qua c'è. Un aperitivo, ogni tipo il drink, l'aperitivo, le cose da stuzzicare, da mangiare. Il dessert price, ognuno da un posto diverso. Ok, beh, non sono delle grandi idee, però vabbè, è già qualcosa. Comunque ognuno può scrivere quello che vuole. Mi sembra anche una buona idea carina. Come quando i bambini nei film, tipo, non sanno che regalo fare e fanno, tipo, il libretto, quello con tutti, tipo, i coupon finti. Tipo, questo coupon lo puoi usare, appunto, per un abbraccio gratis. Oppure ti rifaccio a letto, ti porto la colazione a letto, cioè, capito, di coupon. Quella idea molto economica e bella, secondo me. Cioè, originale, tra virgolette. Magari la... Però, sono quelle cose che vedi fare e non hai mai fatto tu. Potrebbe essere interessante. Però metterci delle cose che sfidano noi stessi, perché l'abbraccio glielo dai comunque alla persona che ami e cui vuoi bene. Non c'è bisogno del coupon. Così più... Alla yes man, no? Che magari una persona ti chiede tante volte di fare una cosa e tu dici sempre di no. E quella volta ti metti nel coupon il bastoncino che poi dovrà pescare il numero giusto. Per quelle cose lì sono... Boh, mi sembra così meglio. La mia idea è meglio. È bella, la sua idea, ma la mia è meglio. È uguale. E niente, ho messo tutti i bastoncini lì che poi non ci sono stati neanche tutti, quindi... Vabbè. Ok. La mia idea è meglio. Poi... Making... Non riesco a leggere. Questo ci fa vedere come ha creato il regalo di San Valentino del suo fidanzato. Ok, materiale. C'è una carrellata di oggetti così rossi, cose da mangiare, culicini, pazzetti. San Valentino, sì, però ci dice part one, quindi c'è una seconda parte, quindi sospetto che non ci faccio vedere il risultato finale. Questo mi altera potentemente, però è un video smr. Quindi bisogna restare rilassato. Componi. Perfetto. Ho preso un bel cestino con i cuori e viene spesso riempito da questa carta che fa anche un bel su un smr. Ho questo, però. Però non è questo solo, è carta ritagliata, fa un bel su un smr. Io già me lo immagino finché tocca quella carta che fa il suono. Bella. Ecco, questi si vede che quest'anno ci sono quelle cose lì, in quel dollar tree, perché tutti fanno vedere. E quelle lucette a forma di cuore che effettivamente fanno molto San Valentino. Poi ci schiaffa delle cose dentro a caso, caramelle. Ha detto più caramelle. Ok. Poi ha modificato, decorato, i coperchi. Ha solo il nome del ragazzo che hai con dei cuori. Pensavo a nome, a nome. Bello, bello, mi piace. Mi piace, mi piace molto. Con le ucine dà quell'effetto. Ok, questo. Quindi. Regalo, tweet, Joseph. Quindi fatto a mano. Vediamo. Vediamo. Ok. Cos'è? Scusa un attimo. Cos'è quella scimmia rossa? Cos'è quella scimmia rossa? È orribile. Vediamo cosa andrà a fare. Già si promette malissimo. Ha messo delle scatoline a forma di cuore, la colla a caldo. Un bicchiere di plastica, tipo... Non lo so. Sì, delle scatoline. Principalmente una... Un po' basso di una scimmietta rossa. Orribile. Ok. È super creepy comunque. Ha prezzo solo per quello. Ok. No, vabbè. A chi piace mi scriva nei commenti se ti piace perché è veramente creatura, è scena sta cosa. Sta schiaffando dei giocolatini dentro. Appiccicati così a caso. Ah, vabbè dai. No dai, è carino che cadono. No dai, no dai, mi piace, è carina. È quella scimmia che è super creepy. No dai. Ha fatto in modo un effetto, diciamo, ottico. Sembra che questa scimmietta rovesci questa scatola di cioccolatini dentro un'altra scatola di cioccolatini a forma di cuore. L'idea non è male. Però quella scimmietta la trovo super inquietante. Quindi io lo vedrei meglio come un regalo di Halloween. Però fate voi. Se è cute, ok. Alzo le mani. Però mi sembra molto creepy a me. Poi troppe cose rosa e luccicose io non sono abituata. Dai carino. Sì dai. Soprattutto ecco, la fine, sul finale, l'ho tutto incelofanato. E mi fa sentire che mi manca l'aria, vedere quella scimmia dentro al plastico così. Però queste sono mie paranoie. E quindi non facciamo finta di nulla. E almeno è originale. È originale rispetto agli soliti cestini con... Però è bello, a me piace il cestino con tante sorpresine dentro. È tipo una mystery box. Ok. Abbiamo l'ultimo video da visionare insieme. Vediamo. Make Valentine's Day gifts with me for my boyfriend. Quindi facciamo il regalo del San Valentino del per il suo ragazzo. Lo facciamo insieme qua. Vediamo. Durante il primo vedo, spircio già che ci sono delle cose. Ma facciamo play. Allora. Confetti. Li chiamo confetti. Si chiamano confetti, quei pestettini di carta stracciata che creano questo uno bellissimo. Lei ha dato per, invece di prendere un'unica scatola o quello che è cestino, grande. Ne ha presi tre, mi pare, piccoli a forma di cuore. Supercolla e dei quadrati tipo di stirolo. Le ha, diciamo che le ha appiccicati uno sopra l'altro. Ha, ha fatto tipo un mix tra quelli che fanno i cesti, i piedi di cose, e quello che aveva fatto quella specie di pianta, quel vaso con sopra le rose. Ha appiccicato con il nastro adesivo dei risis e poi sopra ci ha infilizzato le rose. E un cestino è fatto, è bruttissimo, però dai. Però c'è un risis. Ho messo nella busta, ok. Busta rossa, molto bella, trasparente, mi piace. Del nastro. Con i cuoricini. Carino. Non ho capito perché ne ho fatti tre a tre boyfriend. Non lo so. Sono confusa. Lasciamo qua. Boh, io penso che un po' di idee ce le possiamo fregare. un cestino o quella del... Farei la versione del cestino, però, con il film. Bello. Se non fosse che a febbraio c'è freddo, si poteva fare picnic. Anche l'idea del film insieme mi piace molto. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Come festeggerai San Valentino con il tuo gatto o con i tuoi cani. Fammi sapere, non è scherzo. Credo che sto scherzando. Però si può festeggiare San Valentino anche col proprio gatto, tipo Sam. E se quale di queste idee ti si può rifare, non solo per il fidanzato o la fidanzata, ma anche per un amico o un'amica. Perché secondo me sono molto versatili. Io ti auguro una notte. Buon relax. Ciao, creatura.